Una interpellanza al presidente della giunta regionale e all'assessore alla sanità Nicoletta Verri è stata avanzata a seguito della visita ispettiva presso l'ospedale San Massimo di Pene dal consigliere regionale PD Antonio Blasioli. L'intervento che sarà discusso a metà febbraio riguarderà la corretta funzionalità sia dal punto di vista della strumentazione sia per quanto riguarda l'arrivo di nuove figure professionali sanitarie. Intanto nei giorni scorsi sul sito della ASL competente sono stati pubblicati i primi per il reclutamento di alcune figure indispensabili per far fronte alla carenza di personale. Intanto soddisfatti perché abbiamo ottenuto una sorta di effetto Harry Potter perché dopo la nostra visita ispettiva e dopo il deposito di queste interpellanze sul San Massimo di Pene nove delibere sono state pubblicate sul sito della ASL. Delibere alcune delle quali erano state già programmate un anno fa, lo si legge nel testo della delibera e quindi non erano state assolutamente, non gli era stato assolutamente dato seguito. Sono delibere che risolvono alcune delle criticità ma non tutte le criticità le dà. Quindi siamo soddisfatti per il lavoro fatto che è stato un lavoro costruttivo e così deve essere la politica che si interessa a un problema serio come quello della sanità del territorio vestino ma nello stesso tempo siamo indotti a non abbassare assolutamente la guardia. Mi vorrei sottolineare che questa nostra interpellanza che descrive molto bene la realtà esistente nel San Massimo è il frutto di un costante colloquio che noi abbiamo come circolo e anche come gruppo consigliare regionale con i medici e con tutti coloro che lavorano nel San Massimo. Infatti se siamo soddisfatti che comunque questa interpellanza sta portando i suoi primi frutti allo stesso tempo ci chiediamo perché si è accumulato tutto questo ritardo da parte della regione sul San Massimo. Ricordiamo che sono state fatte tantissime promesse proprio sull'ospedale vestino ma perché a queste parole non sono eseguiti i fatti? Questo noi non sappiamo se sia dovuto a menefreghismo o a sciatteria ma temiamo che ci sia anche un disegno politico che voglia depotenziare il nostro ospedale.